Io sono molto contento, primo tempo giochiamo male, secondo tempo cambio squadra, io non sono qui, non gioco per soldi, pochi, ecco Mario Balotelli. Sì, penso che alla fine io non ho un problema, è chiaro che sono un ragazzo umile, anche se sono il più grande calciatore del mondo, la promessa, quindi un giorno non si smile, è chiaro che io voglio fare la differenza, sono una persona che può sbagliare, ogni tanto sparo dal bagno però sono... E' natamente non sul livello presumibilmente ci mancava Kroos che annuncia superiorità numerica, e natamente è oggi, un attimo vogliono parlare tutti qui, Luigi Del Neri mi hanno chiesto, ma abbiamo Antonio Cassano. Allora io sicuramente mi dicono che vado a giocare a Lentella, Lentella ce l'ha giocato la sorella, le ho detto a Ferrero che mi volevamo andare lì, Ferrero è matto come un cavallo, io penso che alla fine è una persona... però non è frocio, sai, nel calcio è pieno di froci, se io penso a quello che dico è meglio che sto zitto, anche perché l'ignoranza è una brutta bestia, io un po' di più e quindi... però a Ferrero alla fine voglio bene come un cane, come a Luigi Del Neri che ce l'ha avuto tanti anni, che lui poverino non si capiva in tali fa, oggi proprio ci vogliono i sottotitoli. Ecco, Luigi Del Neri è allenatore dell'Udinese, che Udinese ci dobbiamo aspettare, Gigi? Sicuramente la squadra di giorni può pagare, che poi non posso fare anche la squadra che... Sicuramente di fare il caso positivo, sicuramente di fare con qualcuno d'altro, senza fare polemiche, senza scritto un altro... Sicuramente da lì a fare c'è di mezzo e il... dico sempre ragazze, sicuramente di fare qualche politico... In senso di quei ballumi di speranza, che scusate che avete anche a fare, insomma...